È una giornata fondamentale per continuare a investire sulla crescita del nostro Ateneo, questi temi della didattica innovativa basata sulla ricerca, quindi avere uno spazio adesso nel nostro Simulation Center è fondamentale perché tutte queste soluzioni anche più innovative per le terapie avanzate e anche nella medicina di lungo termine simuliamo anche gli ambienti non solo ospedalieri ma anche per la possibile assistenza a domicilio, per la longevità, la salute a lungo termine saranno davvero una leva fondamentale per indirizzare nel modo giusto anche l'applicazione di soluzioni innovative insieme ai giovani ricercatori e a tutti i nostri gruppi di ricerca. Accelerare l'innovazione adesso anche con queste tecnologie abilitanti sempre più esplosive, stravolgenti è fondamentale e quindi questo nostro centro di simulazione ma come già tutto il nostro polo di ricerca dell'Ateneo è a piena disposizione per le aziende, non solo come showroom per dimostrare e promuovere prodotti già esistenti, anche quello ci può interessare verso tutta la comunità dei professionisti ma anche proprio per sviluppare simulazione dei primi utilizzi o formazione dei primi professionisti sull'uso concreto di quelle attrezzature, di quelle soluzioni, di quelle procedure che se non configurate nel modo giusto proprio nelle prime applicazioni possono poi correre il rischio di non avere grande successo sul mercato. In massima disponibilità per il mondo industriale per quello che può essere utile a accelerare lo sviluppo, anche la competitività internazionale delle nostre aziende attive in tutto il mondo, dei dispositivi innovativi.